Oggi giornata mondiale del rifugiato istituita dall'ONU nel 2001. Nel 2018 il numero di persone in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni. Si tratta del livello più alto registrato dall'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in quasi 70 anni di attività. Per coglierne la portata, questa cifra corrisponde al doppio di quella di 20 anni fa, con 2 milioni di persone in più rispetto a un anno fa. Il servizio di Luca Ciciriello. Oggi si fa più urgente l'esigenza di proteggere i profughi e salvaguardare la vita e la dignità dei migranti anche attraverso l'utilizzo di vie legali per chi fugge da situazioni drammatiche. Lo afferma la Fondazione Immigrantes in una nota diffusa in occasione della giornata mondiale del rifugiato che si celebra oggi, promossa dall'ONU. La giornata ha come obiettivo quello di far conoscere le condizioni di milioni di rifugiati e richiedenti asilo costretti a fuggire dalle loro terre per fame, miseria, guerra, calamità naturali o diversi altri drammi. Richiamandosi alle parole pronunciate domenica scorsa da Papa Francesco, la Fondazione Immigrantes sottolinea come quella di oggi sia una ricorrenza che invita tutti alla solidarietà con gli uomini, le donne e i bambini in fuga da guerre, le persecuzioni e violazioni dei diritti fondamentali. Un'urgenza di solidarietà che bussa anche oggi alle nostre porte. Una solidarietà che oggi si fa più necessaria, spiega Immigrantes, con la nave Sea-Watch 3, ferma a poche miglia da Lampedusa con a bordo 53 persone salvate in mare da una ONG tedesca. Solo alcuni hanno avuto l'autorizzazione a sbarcare a Lampedusa perché bisognosi di cure mediche. Nessuno può dire a me non interessa, prosegue Immigrantes. Si tratta di uomini, donne e bambini che hanno subito vessazioni, torture o violenze e rifiutarli non è segno di civiltà né di solidarietà. Restiamo umani e non facciamoci contagiare dal virus dell'indifferenza, della non curanza o del menefreghismo. Sulla giornata interviene anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I rifugiati ci ricordano ogni giorno con forza vicende di sofferenza, di discriminazione e di separazione da famiglie, terre e radici. Ciascun popolo nella sua storia è stato vittima di tragedie di questa natura, ha detto. Intanto, secondo l'UNHCR, sono 70 milioni le persone che oggi nel mondo sono costrette a fuggire dai propri paesi in cerca di condizioni di vita accettabili, il numero più alto mai registrato nella storia moderna. Di queste, oltre 25 milioni sono rifugiati e più della metà minori.